Il progetto nuova ciclopista di Castione Lumino ha due obiettivi principali, che uno è un collegamento ciclopedonale dal canton Grigione fino alla stazione ferroviaria di Arbedo Castione. Un altro obiettivo che si è posto a questo progetto è quello della risoluzione del deflusso delle acque meteoriche in via Quattorta. Il secondo è un lavoro di sottostruttura per risolvere la situazione che c'era prima. Abbiamo eseguito una canalizzazione lunga circa un chilometro con l'obiettivo di farla defluire nella Moesa e facendo anche uno spingitubo tramite rivellazione alla fine della tratta. Per quanto riguarda le opere di pavimentazione, come finitura è stato scelto un mante d'usura pigmentato rosso, con per abbellimento anche dell'opera in sé, e un tratto in cui manca l'illuminazione pubblica è stato impiegato anche un granulato fotoluminescente che ha l'obiettivo di riflettere di notte. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!